ciao ciao a tutti bentornati sul mio canale youtube questo video sarà un brevissimo video per ringraziare chiara che è una ragazza appunto che mi segue sia su facebook che su youtube che mi ha inviato un pacchettino a sorpresa io non sapevo assolutamente che lei avesse intenzione di spedirmi appunto un pacchetto tempo fa me ne invio uno e mi ha inviato appunto un secondo pacchetto perché in pratica lei mi ha detto che non utilizza più questo tipo di pietre e le faceva piacere semplicemente regalarmele quindi io la ringrazio tantissimo ho già utilizzato una parte delle pietre che lei dei mezzi cristalli che lei mi ha regalato tempo fa e sicuramente farò lo stesso con questi che voglio mostrarvi sono tutti all'interno di questo sacchetto in organza nero veramente mi ha lasciato a bocca aperta perché non aspettavo nulla e questi appunto sono sono queste appunto sono tutte le pietre che mi ha inviato chiara vi faccio vedere i pacchetti uno ad uno allora innanzitutto ci sono queste olive sono delle pietre che ho utilizzato per l'anello aurum e mi facciano molto devo pensare di fare qualche altra cosa perché sono veramente carine avevo realizzato anche la fascetta dell'anello aurum per chi non se lo ricordasse vi lascerò il tutorial qui sotto e di questo colore non li avevo quindi sono anche maggiormente apprezzate questi vediamo cosa sono sono praticamente dei bicono neri eccoli qui dei bicono neri da 4 mm che sicuramente mi saranno utili in questo periodo sto lavorando molto al brick stitch poi vi farò vedere le creazioni che sto realizzando sto realizzando appunto uno schema per questa creazione e poi tornerò attiva anche sul canale youtube perché insomma ci sono un po di novità poi vi farò sapere e appunto poi mi ho inviato queste goccioline bianche piccoline con questo cipollotto di sicuro mi saranno utili anche queste perché piccole le utilizzo molto più delle grandi che ho io e poi una serie di gocce nere sempre in mezzo cristallo sempre in mezzo cristallo eccole qui queste sono più piccole di quelle che ho io quindi perfette e queste mi piacciono tantissimo queste mi piacciono veramente tantissimo queste credo di poterle utilizzare all'interno delle creazioni con perline oppure in qualche creazione in wire come gli orecchini vortex che ho realizzato sono degli orecchini a spirale argentati con all'interno una pietra in giada tinta blu e queste secondo me sono perfetti per quel tipo di lavorazione queste gocce qui sia queste ma probabilmente anche queste qui che sono un po' più grandi queste sono spettacolari spero si veda bene il colore sono questo azzurrino cenere AB e queste invece sono il classico verde smeraldo molto molto belle bellissime poi sempre gocce ah ci sono anche rosse non le avevo viste stupende anche queste adesso arriva il Natale quindi perché no come gocce poi ci sono anche queste qui grigie e due più piccoline rosse ah ed ecco qui appunto anche altre rosse sicuramente mi saranno utili anche per fare qualche angioletto per Natale poi ci sono una serie di cipollotti verdi di due dimensioni questi potranno essermi utili per le creazioni al burpistitch mi sto prendendo proprio tantissimo in questo periodo e quindi devo assolutamente utilizzarli poi vediamo poi vediamo c'è questa bustina qui con mezzi cristalli missi questi forse sono da 6 mm o da 8 mm tranne qualche bicono da 4 che intravedo credo siano credo da 6 sì credo da 6 mm non so di preciso poi li andrò a misurare con il calibro questi qui e ci sono sia ecco ne ho trovato uno all'interno della bustina qui ce ne sono di vari colori poi mi ha inviato anche questi mezzi cristalli qui rossi matti molto belli e argentati che possono essere sempre utili praticamente io li utilizzo in tantissime creazioni poi ci sono anche questi qui questi forse sono da 8 perché sono più grandi quelli azzurrini e infine questi anelli che sono veramente belli anche questi credo che si possano utilizzare per un brick stitch devo insomma pensare un pochino a come lavorarli però mi piacciono veramente molto e nulla questo è tutto il bottino che mi è stato inviato da Chiara Chiara ti ringrazio veramente tantissimo non so cosa dirti ti ho già ringraziato in privato e appunto ho voluto fare anche questo video per ringraziarti pubblicamente e nulla noi ci vedremo presto prometto di tornare al più presto con dei tutorial appunto ci sono delle delle novità e quindi sto impiegando un pochino di tempo in più per cercare di capire come ingranare ho sistemato il pc ho sistemato il programma per montare i video che mi dava problemi anche se il pc è sempre quello vecchio però diciamo che adesso almeno funziona e quindi vi ringrazio tantissimo per la visione di questo video continuate a seguirmi ah nel frattempo voglio dirvi che voglio dirvi due cose una c'è ancora in atto una specie di contest sulla mia pagina facebook vi lascio il link nel box informazioni qui sotto per vincere lo schema della September Cross non credo di averlo detto nel video precedente quindi vi lascerò il link del concorso per partecipare seguite i passaggi e credo in questo fine settimana farò l'estrazione per colui con lei non lo so che vincerà lo schema poi voglio dirvi che sul mio terzo canale per chi non lo sapesse ho aperto un terzo canale che si chiama Aurora Boreale e un secondo canale che si chiama Giocolia il secondo canale diciamo è quello un po' più statico però caricherò comunque dei video che riguardano ragazzi adolescenti eccetera quindi lavori un po' più semplici per bambini ragazzi eccetera mentre sul canale Aurora Boreale io carico un po' di tutto carico video di viaggi carico video non so di spettacoli pirotecnici oppure parlerò a ruota libera di cose che mi piace fare di fotografia ho mostrato nel mio ultimo video tutti gli orecchini che ho disponibili quindi se vi va appunto iscrivetevi anche a quel canale lì per seguirmi anche sul terzo canale quindi vedete che se non carico video su un canale ma li carico su qualche altro canale ho voluto aprire questo canale Aurora Boreale proprio per spaziare un po' di più tra le cose che mi piace fare e niente ho approfittato di questo video per dirvi appunto qualche novità di cui non eravate ancora a conoscenza probabilmente vi ringrazio tantissimo per la visione e ci vediamo prestissimo un bacio alla prossima ciao ciao